Parte l'annunciata operazione di rimborso dei canoni di depurazione. Proprio per questo, a partire da oggi, il Comune di Pordenone ha attivato un apposito sportello presente al piano terra di Palazzo Crimini, in Piazzetta Calderari, dove i cittadini potranno ricevere tutte le informazioni del caso e verificare l'eventuale diritto al rimborso. L'assessore comunale, Nicola Conficoni. Le utenze interessate sono 3.138 nella nostra città. Tante sono quelle che nel periodo compreso tra la metà dell'ottobre 2003 e la metà dell'ottobre 2008 hanno pagato indebitamente i canoni di depurazione pur non potendo usufruire di questo servizio. C'è da precisare che la sentenza della Corte Costituzionale numero 335 del 2008 non ha condannato un comportamento del Comune di Pordenone che faceva pagare a questi utenti il canone di depurazione, ma ha dichiarato illegittima una norma sulla base del quale il Comune richiedeva questi canoni. L'importo complessivo da restituire, comprensivo degli interessi, è di circa 1.700.000 euro. È importante anche in questo caso sottolineare che avremmo potuto recuperare questi soldi aumentando le bollette del servizio idrico integrato, invece abbiamo deciso di utilizzare un fondo precedentemente accantonato e degli utili di GEA che sono stati distribuiti nei mesi scorsi. Le domande vanno presentate entro luglio 2014 in modo tale che tutta questa partita dei rimborsi nei termini di legge possa essere conclusa tra circa un anno. Lo sportello avrà i seguenti orari, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.45, il lunedì e il giovedì pomeriggio anche dalle 15.30 alle 17.30. Inoltre si potranno ricevere tutte le informazioni e verificare l'eventuale diritto a rimborso consultando la pagina web comune.pordenone.it slash rimborsi depurazione.